Questo corso e questa coppia di, diciamo, sono conoscenti, non sono propriamente amici e ci ha detto a me non serve, cioè io non ho bisogno di memoria e aveva appena raccontato lei soprattutto che fa, lavora dieci ore al giorno, quindi sono già due ore di straordinario. E allora gli ho detto, guarda che non è che serve solo così per leggere libri o per imparare concetti, ho detto ma magari ti aiuta a lavorare meglio, cioè tu adesso mi hai detto che lavori dieci ore al giorno, quindi già fai due ore di straordinario al giorno. Ho detto, penso di, anziché lavorare dieci, ne puoi lavorare otto o ancora meno. Ah beh, ma io non è che faccio, sembra una giustificazione per ogni cosa, quindi ho detto ok, va bene, tu ti tieni la tua versione, io resto nella mia. Imparare non è, cioè progredire, ecco, per certe persone non è importante, quindi va bene così, restano nei loro schemi, nei loro mood che se la fanno, se la fanno, se la raccontano e continuano lì. Invece sono contentissima, davvero contentissima, grata di voi, ecco, di quello che state insegnando, quello che continuate a spiegare, ecco, e lo fate con passione. Quindi veramente è stata già solo per questi due giorni, un giorno e mezzo, è stata una cosa spettacolare. Oggi speriamo di concretizzare. Comunque stamattina mi sono svegliata che non mi ricordavo la scheda 1, ero in panico, ho detto, ma cos'è, cos'è? Cioè proprio sono andata, sì, ma veramente, comunque no, grazie davvero, grazie. A te, poi sulla crescita, ragazzi, vi racconto, io vengo da un prezzo.